Ringrazio il professor Lorenzo De Donato della sua disponibilità per questa conferenza del venerdì che, come sapete, se siete qui intervenuti, è intitolata Trasfigurazioni dell'Odissea a 100 anni dall'Ulisse di James Joyce. Questo intervento, su cui a breve De Donato interverrà con la sua relazione, evoca un tema, quello dell'Odissea, che è a noi tutti molto caro, almeno ai tempi della formazione scolastica, e che accoglie questa occasione, questo anniversario gioistiano, per un percorso più articolato, multilivellare, sulle varie riapparizioni e rievocazioni della figura dell'Odissea all'interno della nostra storia letteraria. So che verranno evocati dei luoghi letterari molto noti, come alcuni celebri passaggi di Dante in cui il poema omerico è tornato a vivere, ma anche esempi più recenti, oltre a quello ovviamente di Joyce, ad esempio l'Odissea di Nikos Kazantakis, su cui il professor De Donato interverrà con alcune precisazioni, proprio per dimostrare il carattere evocativo, potente, dell'archetipo dell'Odissea. Lorenzo De Donato sicuramente non è nuovo a molti di voi, in quanto è docente di Unitra Edu, tiene due corsi all'interno della nostra università, dedicato all'estetica musicale e all'ontologia dell'arte. Lorenzo De Donato è anche insegnante di musica, docente di estetica, collaboratore dell'Università Bicocca di Milano, presso la Cattedra di Musica e di Didattica della Musica, è tra i fondatori di Musiquet, un istituto di ricerca dedicato alla critica e farmacologia musicale, ed è membro del gruppo di ricerca etica, estetica e filosofia della letteratura dell'Università Federale di Rondonia in Brasile. La sua ricerca attraversa tematiche di carattere filosofico e musicale che hanno trovato nella disciplina dell'estetica una sintesi felice e nell'intervento di oggi farà applicazione concreta a questo ricco percorso di studi e di ricerca all'interno di un tema di carattere letterario, ma sono sicuro dagli echi anche profondamente filosofici ed esistenziali. Non voglio sottrarre ulteriore tempo, mi scuso anche per il leggero ritardo per il fraintendimento dell'orario e lascio subito la parola a Lorenzo, collega e amico, per l'intervento e vi auguro a tutti un buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie dell'introduzione. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Luca, ringrazio il professor Siniscalco per la bella introduzione, a cui sono legato, come diceva anche lui, da un rapporto di amicizia e di stima, oltre che da questioni appunto universitarie. Ringrazio anche ovviamente il centro universitario UNITRE per l'organizzazione di questo incontro. Allora, inizio con alcune velocissime premesse per poi entrare nel vivo, visto che appunto è stato già qualche minuto di attesa. Per capire un po' come già molto precisamente, diceva il professor Siniscalco, inquadreremo il tema stasera. Allora, sicuramente proverò a darvi un'interpretazione un po' originale, diciamo, un'interpretazione anche personale, possiamo dire, a base di una ricerca che sto conducendo, e che spero poi presto possa confluire anche in un saggio, quindi in una forma più compiuta, ma tenendo però come presupposti alcuni strumenti concettuali che invece sono noti. Esempio, un'analisi di tipo semiologico di, possiamo dire, ispirazione echiana. Quando Umberto Eco scrive opera aperta, lancia nel campo aperto della cultura e degli studi una prospettiva innovativa che ha poi grande risonanza nel Novecento. Cioè, la semiologia come studio del segno, la semiologia come possibilità di interpretare le opere d'arte, testi letterari, opere d'arte di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma, fattura, disciplina, ma quindi, nel nostro caso, anche testi letterari, allo scopo di istituire connessioni che spesso non sono contenute in quell'unico testo letterario che si prende ad esempio. Questo è il concetto più ampio che anche affronteremo di intertestualità, quindi il dialogo tra i testi, o meglio, in generale, il dialogo tra le opere, il dialogo tra gli oggetti culturali. Quindi una prospettiva interpretativa di più ampio respiro, diciamo così. Quindi questo, come infatti esattamente, intuendo bene, diceva il professor Sinescalco, è, potremmo dire, un approccio anche di filosofia della letteratura. Parleremo di personaggi che nascono nella narrativa, nella poesia, parleremo di argomenti che hanno a che fare con la letteratura, ma li analizzeremo appunto da una prospettiva un po' più ampia, di tipo concettuale, quindi come se allargassimo il campo della nostra macchina da presa oggi. Tra l'altro questa è una conferenza che in forme diverse, ho trovato anche l'anno scorso, per un pubblico di milauti, semplicemente se dovesse capitare che ci fosse qualcuno che, quindi anche non ha risposto, diciamo la ricerca che appunto dicevo, stavo contendo su queste tematiche, è andata avanti, quindi gli argomenti verranno presentati anche in una maniera più ampia e differente rispetto all'anno scorso, credo fosse maggio. Allora, finite queste premesse, iniziamo a entrare un po' nel vivo analizzando alcuni nuclei fondamentali. Il primo è sicuramente, forse anche banale dirlo, ma vale la pena sottolinearlo per un attimo, per capire in che senso lo intendiamo, il primo nucleo fondamentale che ci troviamo di fronte è l'importanza del mito, quindi l'importanza della mitologia, o meglio l'importanza proprio del mito. Magari noi, paremo, stiamo facendo mitologia come studio del mito, riflessioni sul mito, ma io dico l'importanza fondamentale del mito come racconto, come storia, come modo di una cultura, di un popolo, di un'epoca, di rappresentarsi, di autorappresentarsi attraverso la narrazione di storie. Sappiamo ovviamente che il mito è una modalità espressiva, comunicativa, fondamentale nell'antichità, nell'antichità non soltanto greca, ma in questo caso greca, perché parliamo della Grecia di Omero, della Grecia dove appunto nascono i poemi epici dell'Iliade e dell'Odissea, ma in realtà, a ben vedere, il mito è una questione culturale che travalica l'epoca antica, perché in forme diverse si ripresenta a più riprese, senza sosta, nel corso della storia letteraria, e in generale, diciamo, della storia culturale, di tutti i tempi. Anche il caso della ripresa del personaggio di Ulisse, del poema dantesco, nella commedia di Dante, è un'ulteriore riprova del fatto che la mitologia si ripresenta sotto mentite spoglie, potremmo dire, perché se ci pensiamo bene, anche se tradizionalmente non intendiamo la commedia dantesca come mito, perché intendiamo l'Iliade e l'Odissea come mito, ad esempio, non la commedia dantesca, ma se ci pensiamo bene, di fatto, che cos'è quella, se non una rappresentazione mitica, mitologica, mitico-letteraria, di determinati avvenimenti, vecchi e nuovi, reali e inventati, una grandiosa sintesi, un grandissimo, magmatico, ribollente calderone, in cui Dante, insospettabilmente con la chiave del mito, riesce a fare e a comunicarci la sua personale sintesi, cioè la sua personale visione del mondo, la sua opinione su tante cose, su tante persone, su tanti fatti. Quello è mito, è una mitologia religiosa, potremmo dire, perché si aggancia al credo cristiano-cattolico, ovviamente. La commedia divisa in Paradiso, Purgatorio e Inferno non è nient'altro che un esempio di mitologia religiosa, di mitologia cristiano-cattolica, che è anch'essa un mito, un racconto, una storia. La mitologia biblica è fatta di storie, di racconti anch'essa, quindi può essersi una mitologia anche di tipo religioso-teologico, diciamo così. E l'Ulisse di Joyce, da cui prendiamo spunto, appunto, si diceva un'occasione che poi ci porta a riflettere su Joyce, ma anche al di là, quella di oggi, il centenario, insomma, quest'anno della pubblicazione dell'Ulisse di James Joyce. L'Ulisse di Joyce, ulteriormente, è un mito, ma è un mito che si presenta in una chiave molto eccentrica, molto particolare, perché è un mito trasposto, è un mito trasfigurato. Ecco perché noi parliamo di trasfigurazione, perché quell'originale avventura dell'Odissea Omerica viene riletta, rievocata, trasformata, modificata, quindi letteralmente trasfigurata in qualcosa d'altro. Non è soltanto questione di, proprio nel caso dell'Ulisse di Joyce mi riferisco, non è solo questione di riapparizione, di continuazione, di rievocazione, come può essere nel caso dell'Ulisse d'Antesco. Rievocazione, ma anche continuazione di certe avventure rimaste, tra virgolette, in sospeso. Ma nel caso di Joyce, ecco perché, ripeto la parola del titolo, ed è un concetto fondamentale, è una vera e propria trasfigurazione, cioè una trasformazione totale. Trasfigurazione in sé è una parola che, se ci pensiamo un attimo, viene essa stessa da un iniziale, originale, significato di tipo teologico-religioso, una parola anche biblica, una parola che viene da quell'ambito lì. Però, utilizzata, al di là di quella sua etimologia, in un senso culturale, in un senso concettuale, in un senso filosofico, parlando di opere d'arte, rende bene l'idea, appunto, di una storia che viene modificata talmente tanto da non sembrare più uguale a quella originale. e però, in qualche modo, ha e non lascia dei rapporti con quella precedente. Per fare quindi un esempio molto pratico di cose che sicuramente sono note, l'Ulisse di Joyce è in realtà la storia di un uomo normale che racconta, il romanzo racconta un giorno normale della vita normale di questa persona. Ma a ben vedere, e soltanto, al di là di tutto quello che è stato scritto e detto dopo, ma quando è stato pubblicato il libro per la prima volta, gli unici elementi a disposizione del lettore erano il titolo, Ulisse, e i titoli dei capitoli, che richiamavano gli episodi dell'Odissea. E nulla di esplicito, invece, nel testo, nel racconto. Quindi, il racconto in sé è quello di, dicevamo, una giornata normale di una persona normale. Ma a ben vedere, di completamente reale, di completamente normale, in questa storia c'è ben poco. Perché quei titoli sono un meccanismo, un gioco messo in campo dall'autore per fare un continuo riferimento ad un mondo oltre, che pur nella storia non è presente, nella storia, tra virgolette, intesa in senso realistico, e però è continuamente presente ad ogni passo. Perché è come il riferimento al mito nel Ulisse di Joyce, è come la creazione di una doppia realtà, di un doppio scenario, potremmo dire di una doppia interpretazione dei fatti. Mentre noi leggiamo una storia, c'è dietro un sottotesto, un secondo significato che i titoli dei capitoli ci fanno pensare e ricordare. Questo è il gioco letterario messo in campo tra autore e lettore nell'Ulisse di Joyce. E qui già stiamo parlando allora di intertestualità. Perché nell'essere un solo libro, l'Ulisse di Joyce, è due libri. Perché bisogna aver letto l'Ulisse di Omero per capirlo. Ma potremmo dire invece, in senso più esteso, è più libri, è davvero tante cose. Perché in realtà anche il riferimento stesso alla questione del rapporto tra autore e lettore che facevo, è esso stesso un gioco che lo stesso Eco chiamerebbe intertestuale. Perché è un uscir fuori dal libro per chiedere il coinvolgimento del lettore che deve ricreare l'opera ogni volta che la legge. Perché ogni volta che la legge coglie nuovi significati. Nei fatti intesi in senso realistico, le cose che succedono quella giornata, coglie ogni volta nuovi riferimenti alle cose dette nel poema originario. Quindi il riferimento al sottotesto contenuto nel primo testo. Ecco, quindi diciamo che l'Ulisse è perlomeno due libri, dicevo anche molto di più, ma almeno due. C'è un primo libro che è la storia raccontata e c'è sempre un secondo libro che è il riferimento al mito. Ma ci sono tanti livelli che pian piano toccheremo. Nel senso che non c'è solo il riferimento all'intertestualità, quindi dialogo tra minimo due opere letterarie, non c'è solo il riferimento al dialogo tra autore e lettore e quindi la necessità del coinvolgimento attivo e creativo del lettore per la comprensione dell'opera. Ma c'è anche il riferimento ad una ambivalenza di reale e mentale, di esteriore e interiore, che è ciò che potremmo semplificare parlando dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi a cui Joyce dà adito che inventa e reinventa. Ma poi su questo ragioneremo meglio dopo. Sicuramente le riapparizioni, le rievocazioni, le reinterpretazioni di Ulisse sono tante nel corso della storia letteraria europea e non. Si arriva persino alla poesia italiana del Novecento. I riferimenti davvero sono tantissimi. Ci sono poesie di Sabadi, c'è il poema di Pascoli, l'ultimo viaggio sull'Ulisse, su una nuova versione dell'Odissea, c'è la nota lirica del poeta greco Cavafis e anche qui è sempre spesso un gioco letterario perché ad esempio come Dante anche i nostri Pascoli e Saba immaginano in realtà la ripartenza di Ulisse da Itaca dopo il ritorno, dopo la prova e quindi danno vita ad un secondo viaggio. Lo chiameremmo sequel nel linguaggio cinematografico odierno ma del resto tutto quello che si fa oggi anche con altri mezzi, con altre forme d'arte è sempre esistito in modi differenti, in forme d'arte differenti. Poi ancora diciamo sempre in questi esempi di liriche contemporanee più lunghe come il poemetto L'ultimo viaggio o più brevi come Saba e Cavafis quindi una semplice poesia breve in questi casi emerge in maniera più esplicita visto che parliamo davvero di poesia in sé per sé di lirismo a tutti gli effetti emerge in maniera forse ancora più esplicita che negli altri casi il riferimento ad un contenuto o sostrato o interpretazione esistenziale del viaggio di Ulisse quindi che tipo di significato può avere la storia e avventure e le vicissitudini di Ulisse per noi per la collettività per ogni individuo che forma questa collettività per ogni lettore per ciascuno di noi per ogni io per ognuno di noi per ogni lettore per ogni essere umano la poesia nella sua essenzialità non dico semplicità ma nella sua essenzialità nella sua concisione potentemente evocativa questo spesso ce lo rende più esplicito o meglio più diretto rispetto che altre opere più complesse come proprio il romanzo Ulisse di Joyce noi quindi procederemo oggi in questo modo cioè proveremo a dare una impostazione diciamo così ermeneutica e non filologica nel senso di come dicevo uno sguardo una panoramica ad ampio raggio senza stare magari troppo sul testo come fanno i filologi gli esperti di letteratura ma come vi dicevo prima prospettiva ermeneutica significa prospettiva interpretativa quindi cercando di allargare il discorso ecco diciamo così per sintetizzare ora io direi di passare subito all'esempio medico sì allora io preferirei procedere così ho preparato diverse cose che vorrei anche leggere per esempio le liriche che stavo citando vediamo un po' come si evolve la cosa con i tempi lasciamo magari qualcosa da da leggere alla fine inizierei proprio dall'Odissea di Omero che è il battesimo di Ulisse è l'atto di nascita chiaramente è l'unica opera in cui Ulisse è il personaggio originale e protagonista sia perché Ulisse già presente nell'Iliade in essa però non aveva assolutamente un ruolo da protagonista era un comprimario sia perché come abbiamo già notato Ulisse è personaggio di Omero senza entrare ovviamente nella nota questione di chi fosse Omero non mi compete ma era per dire l'Odissea di Omero supposta omerica è la casa di Ulisse perché non solo è l'opera dove lui è protagonista ma è la prima opera dove lui è protagonista l'Ulisse è inventato da Omero o da chi Omero fosse le altre abbiamo detto sono state riprese ritorni sono state rapine letterarie il personaggio è stato trasfigurato e riportato in vita da altri autori allora nell'Odissea non vi racconterò chiaramente tutta la storia perché è nota a tutti ma vorrei mettere in luce soltanto alcuni punti chiave che a noi interessano in questo discorso allora io credo che nell'Odissea si esplicitano i grandi temi dell'antichità della cultura antica del mondo antico che innanzitutto io riassumerei come innanzitutto ecco innanzitutto innanzitutto e per lo più diciamo così i temi della guerra e del viaggio della guerra perché non dimentichiamo che l'Iliade che l'Odissea nasce dall'Iliade la guerra di Troia è la guerra per eccellenza è la guerra delle guerre quindi io parlerei di polemos che è la parola greca il concetto greco di guerra come una dimensione originaria come ho detto proveremo sempre a fare uno slittamento dal filologico all'ermeneutico al concettuale al filosofico a questo che a noi interessa in questa sede il polemos è un po' la dimensione originaria e ancestrale dell'essere umano una sorta di base fondamentale che non si può evitare che anima le spinte dell'individuo perché dicevo allora il viaggio come altro grande tema quindi prima cosa il polemos non solo come guerra reale ma come concetto come concetto umano perché dicevo il viaggio perché sappiamo che il poema dell'Odissea è un nostos i cicli epici dell'antichità dopo la grande guerra di Troia prevedevano una serie molto ampia di poemi che erano chiamati nostoi i ritorni quindi i poemi che descrivevano le geste le avventure di tutti i personaggi più noti o meno noti dell'Iliade della guerra di Troia sulla strada del ritorno a casa ognuno verso la propria patria quindi l'Odissea di fatto anche se il più famoso dei nostoi dei poemi del ritorno è uno dei tanti si inquadra in quel filone quindi Odissea come nostos come ritorno come viaggio il viaggio inteso però alla modalità di Ulisse quindi come esplorazione del mondo come scoperta del mondo come ricerca il viaggio come ricerca chiaramente come scoperta geografica perché parte tutto da lì Ulisse devia cambia rotta torna indietro le peripezie sono infinite peripezie geografiche quindi viaggio e ricerca come scoperta geografica ma ovviamente anche questo è facilmente intuibile è stato detto tante volte come orizzonte di conoscenza quindi non soltanto il viaggio reale ma anche il viaggio mentale immaginario figurativo il viaggio culturale il viaggio dell'animo possiamo dire il viaggio dello spirito che è anche un desiderio di ricerca quindi eros desiderio di conoscenza il viaggio di Ulisse dentro le colonne d'Ercole ovviamente devo per forza citare delle cose molto note che tutti già conosciamo però è per arrivare poi ripeto ci provo almeno ad un livello superiore per provare a dire qualcosa di originale di interessante quindi viaggio come ricerca come desiderio come desiderio di conoscenza come eros il viaggio di Ulisse dicevamo oltre le colonne d'Ercole sfidare quindi tutto ciò che all'epoca non doveva mai essere sfidato all'epoca però anche qua ci iniziamo a chiedere quale epoca l'epoca di Ulisse oppure l'epoca di Dante che è colui che parla del momento in cui Ulisse va oltre le colonne d'Ercole quindi vedete siamo sempre in un discorso più che ambiguo direi variegato è sempre il discorso dell'intertestualità che ci conduce in un caleidoscopio di tanti riferimenti ora prima abbiamo detto polemos come primo concetto e adesso quindi l'eros inteso come desiderio quindi etimologicamente ma anche freudianamente psicoanaliticamente come desiderio non come sessualità eros e polemos allora mi verrebbe da dire sono qui interpretabili come i caratteri salienti dell'umano quindi a partire dall'idea che l'odissea forse ci parla dei grandi temi dell'antichità la guerra e il viaggio siamo arrivati a parlare di polemos e di eros viaggio come ricerca come desiderio e allora possiamo dire ad un livello superiore che forse eros e polemos sono due dei grandi temi dell'umanità in generale due grandi polarità attorno a cui si sviluppa la battaglia delle nostre vite la battaglia dell'umano diciamo così qualcuno potrebbe pensare che non parlo di thanatos perché in realtà il binomio classico freudiano è di eros e thanatos al di là del principio di piacere 1920 eros e thanatos anche freud fa questa operazione o meglio noi la facciamo perché la faceva freud prende questi termini greci ma data la straordinaria vastità concettuale filosofica della lingua greca del vocabolario delle parole in greco non sono semplicemente parole in greco ma sono concetti che detti con la parola in greco risuonano in tante altre cose che non ci direbbe la parola italiana diciamo così eros e thanatos in al di là del principio di piacere di freud sono la pulsione di vita e la pulsione di morte il polo positivo e il polo negativo in qualche modo però mi permetto di dire almeno nella nostra analisi perché è chiaro se andiamo a occuparci di psicologia e psicoanalisi in senso stretto parlando di quell'opera di freud c'è un motivo per cui c'è il thanatos c'è la pulsione di morte ma nel nostro caso io invece anziché eros e thanatos partendo da quello che dicevamo di viaggio e guerra ricerca e conflitto desiderio e conflitto dico eros e polemos perché a ben vedere il thanatos non è che lo stesso polemos portato alle estreme conseguenze cioè la conseguenza del conflitto è l'annientamento la conseguenza della guerra è la morte quindi addirittura forse ad un livello più semplice potremmo anche dire semplicemente bios e thanano e thanatos bios invece è la vita come ovviamente tante parole anche in italiano che hanno questo prefisso la biologia non ci parlano di questo quindi diciamo così eros e thanatos freud pulsione di vita e pulsione di morte bios e thanatos intesi in maniera semplice schematica vita e morte ma nel nostro caso ciò che vi propongo è eros e polemos desiderio e conflitto una pulsione positiva e una pulsione negativa una pulsione di vita e una pulsione di morte diciamo così perché se noi facciamo un esempio antropologico spesso molti studiosi lo fanno e a proposito addirittura dell'Ulissia di Joyce lo fa anche Pietro Pascarelli che è uno psichiatra ma anche studioso autore scrittore ovvero fare un riferimento alle culture perché è antropologico un riferimento antropologico fare un riferimento alle culture primitive per farci capire cosa di primitivo c'è in noi a livello inconscio e non al di là delle strutture e sovrastrutture ovvie e banali della nostra vita quotidiana della nostra vita moderna della nostra cultura raffinata raffinatasi nel corso del tempo sovrastrutture che ci impediscono poi di vedere certe basi così primitive e così originarie a cosa mi riferisco mi riferisco che se noi ecco faccio una parentesi vi ho citato Pietro Pascarelli lui insieme ad altri il 9 aprile mi fa piacere dirvelo visto che siete interessati a queste tematiche sabato 9 aprile terranno un convegno online come il nostro presso l'istituto italiano di studi filosofici di Napoli che è un istituto di ricerca con il quale collaboro e sarà proprio sull'Ulisse di Joyce perché ovviamente il 2022 è questo centenaio quindi ci sono tante tra virgolette celebrazioni come anche la piccola nostra oggi quindi in realtà se vi interessa basta andare sul sito dell'istituto istituto italiano di studi filosofici iscriversi alla newsletter e poi vi arriva il link anche io lo seguirò perché ci saranno molti studiosi che parleranno dell'Ulisse di Joyce vi dicevo esempio antropologico pensiamo ad un uomo primitivo non comprende nulla della natura di se stesso e del mondo deve soddisfare i suoi bisogni primari la fame che lo spinge a cacciare la ricerca di cibo è soddisfatta questa il bisogno di protezione e di sicurezza la ricerca di una dimora trovato il riparo un bisogno naturale fisiologico di accoppiarsi di riproduzione allora e per soddisfare questi bisogni essenziali questi desideri essenziali questo eros originario che inizia la lotta inizia la ricerca la peregrinazione il viaggio la battaglia si esce lì fuori nel mondo e si inizia a lottare per ottenere la soddisfazione di questi bisogni ed ecco il polemos quindi in realtà questo è per dire che allora il thanatos come distruzione fine conclusione arriva dopo come esaurimento di tutte queste energie quindi il thanatos è figlio del polemos e allora in questo senso eros e polemos di cui ci parla l'odissea non ci siamo anche se è sembrato che ho parlato di qualsiasi altra cosa non ci siamo mai allontanati da lì eros e polemos il desiderio e il conflitto il viaggio e la guerra di cui ci parla l'odissea sono i due bisogni primordiali e primari dell'essere umano e sono appunto entrambi contenuti già in quel capolavoro omerico che è l'odissea questo come prima suggestione su Omero che poi tra l'altro questa piramide di bisogni che citavo si ritrova pari pari in Maslow che è quello psicologo del novecento che ha teorizzato la famosa piramide dei bisogni di Maslow che è da tutti conosciuta così che racconta proprio la possibilità di evoluzione e di autorealizzazione di ognuno di noi di ogni individuo mettendo in ordine logico e cronologico per così dire i nostri bisogni da soddisfare proprio come rapidamente ve li ho enumerati io ognuno di noi senza accorgersene soddisfa quei bisogni in quell'ordine e solo arrivato alla fine di quei bisogni essenziali inizia a pensare all'autorealizzazione che noi esseri umani con le nostre sovrastrutture culturali mettiamo in campo in altri modi ecco perché vedete quindi in realtà non si ferma a quella mia interpretazione dell'eros e del polemos ma va anche oltre se ci è arrivato Maslow vuol dire che questa idea dell'odissea come contenitore di significati primordiali dell'essere umano ha un senso dicevo questa come prima suggestione un'altra molto importante è sicuramente la presenza nell'odissea di un altro piccolo gioiello una perla diciamo così che spesso viene dimenticata ma è fondamentale la presenza del figlio l'odissea si apre con la telemachia l'avventura di telemaco che cerca in mille modi di darsi da fare per risolvere tutte le problematiche derivate dall'assenza lunghissima del padre e questa parte occupa ben quattro libri su ventiquattro quindi una sezione diciamo quantitamente significativa che spesso viene poi dimenticata sappiamo che quello di telemaco sarà un ruolo chiave non solo all'inizio della storia ma soprattutto nella sua conclusione perché è grazie a lui che il padre Ulisse riesce a compiere le gesta finali a riconquistare Itaca la sua patria il suo posto nel mondo la sua casa la sua famiglia quindi a noi cosa interessa interessa il fatto che telemaco ha un'importanza simbolica perché qui stiamo parlando della questione dell'eredità il grande tema dell'eredità Ulisse e telemaco sono padre e figlio sono due personaggi ma sono due figure simbolo simbolo del rapporto tra generazioni che nel nostro caso è il rapporto tra epoche culture perché non vi dimenticate la base di partenza da cui siamo da cui abbiamo iniziato oggi sicuramente è presente l'idea di scambio generazionale come scambio psicologico come scambio di umanità come scambio affettuoso come scambio di contenuti realistici su questi temi andiamoci a guardare l'interessante complesso di telemaco di Massimo Recalcati che ha preso proprio il personaggio di telemaco come simbolo per parlare della questione dell'eredità che è una questione appunto che è importante a tanti livelli a livello psicologico individuale ma anche a livello storico sociale nel nostro caso invece ampliamo ulteriormente questo tema perché il rapporto tra generazioni è di fatto anche un rapporto tra due mondi cioè tra due culture a volte tra due epoche tra due spazi di pensiero quindi se noi prendiamo Ulisse e telemaco come simboli di questa che potremmo chiamare intergenerazionalità nel solco del nostro discorso questa intergenerazionalità non è altro che una comunicazione di conoscenze una comunicazione di cultura una comunicazione di contenuti e allora potremmo dire che cos'è la stessa intertestualità questo raffronto interpretativo tra opere quindi tra contenitori culturali appartenenti a epoche differenti se non una questione intergenerazionale sembra complesso magari per le due parole intertestualità intergenerazionalità ma in realtà secondo me è semplice da un punto di vista davvero per me è stato illuminante quando mi sono trovato a pensare questa cosa l'intertestualità il dialogo tra le epoche tra le culture tra le opere che cos'è in fondo in ultima analisi se non intergenerazionalità cioè dialogo tra generazioni di luoghi e tempi completamente distanti e differenti quindi anche la ripresa dell'Ulisse di Omero da parte di Dante la ripresa dell'Ulisse di Omero e Dante da parte di Joyce che cos'è questo discorso intertestuale se non un discorso intergenerazionale ad ampio raggio perché non riguarda solo le generazioni di una famiglia ma riguarda le molte generazioni della civiltà culturale umana quindi anche di questo ci parla l'Ulissea in generale tutte queste cose sono poi cose che ritorneranno tra un attimo quando andremo avanti quindi queste sono le suggestioni secondo me base diciamo così che nascono dall'Odissea Omerica ora in Dante invece la figura di Ulisse prende una connotazione completamente diversa nell'Odissea nella commedia dantesca la presenza di Ulisse sappiamo essere un passaggio brevissimo nel canto 26 dell'Inferno breve brevissimo nell'economia dell'intera opera però per noi è importantissimo perché è un passaggio fondamentale che apre le porte alla continuazione del mito non soltanto perché tra i tanti esempi anche meno noti che non citeremo di ripresa del personaggio di Ulisse ed altri autori quello di Dante è un esempio paradigmatico famoso celebre e celebrato ma a ben vedere Dante ed è importante per il discorso intertestuale ermeneutico che stiamo facendo Dante è il primo a reinventare Ulisse le cose raccontate nel canto 26 dell'Inferno sono nuove non sono contenute nell'Odissea di Omero quindi la prima volta che qualcuno riprende Ulisse non rifacendo l'Odissea ma inventando altre cose quindi possiamo dire che Dante apre la porta alla operazione di trasfigurazione ecco qui della figura di Ulisse quindi non tanto un rifacimento pedisseco dell'originale ma una trasfigurazione un cambiamento totale una presa di possesso di quel personaggio per reinterpretarlo alla propria maniera e Dante lo fa alla propria maniera alla maniera della propria epoca perché Ulisse nella commedia è presentato innanzitutto in una dimensione etica una dimensione etico-morale ma una dimensione etica di tipo negativo perché chiaramente viene presentato nell'inferno come peccatore perché siamo nel Medioevo nell'epoca medievale tutto è tragicamente direi orientato ad una certa visione del mondo anche la commedia di Dante chiaramente dico qui cose ovvie per esempio lo storico Jacques Le Goff un medievista che a me piace moltissimo afferma e questo sarà tutto ciò di cui ci parla la presenza di Ulisse nella commedia di Dante afferma che la mentalità dell'essere umano medievale è radicalmente segnata contaminata da tutta una serie di ossessioni legate ovviamente all'impostazione religiosa cristiana quindi Jacques Le Goff nella sua storia del Medioevo cita diversi concetti diverse ossessioni della persona dell'uomo medievale l'ossessione della gerarchia quindi dell'autorità l'autoritas che viene tradotta anche a volte come ossessione pensate sempre a Dante alla commedia ossessione dell'autorità dell'autoritas ma viene tradotta anche come autorità letteraria culturale quindi l'ossessione per gli antichi per le fonti non a caso la guida di Dante è Virgilio i personaggi alcuni che incontra sono personaggi delle fonti verso le quali bisogna avere rispetto come appunto Ulisse tra i tantissimi ma ovviamente Le Goff ci parla di ossessione per l'autorità anche di altro tipo verso il potere secolare o ecclesiastico ci parla chiaramente dell'altra grande ossessione dopo quella dell'autoritas dell'uomo medievale che è l'ossessione del peccato ed ecco qui lo dicevamo un attimo fa per quanto riguarda Ulisse il peccato della carne ma che ha un'importanza speciale ma in generale qualsiasi tipo di peccato addirittura quello di cui ci parla il canto 26 è il peccato dell'aver voluto conoscere ciò che era stato vietato quindi andare oltre le colonne d'Ercole semplicemente un desiderio di conoscenza viene identificato come peccato che condanna l'inferno per l'eternità quando Ulisse racconta il suo viaggio tra l'altro il canto 26 è breve sono insomma nemmeno 150 versi ma è meraviglioso per tutti i significati contenuti ecco quando Ulisse raccontando nell'inferno a Dante le sue vicissitudini dice racconta ecco di avviarsi nello stretto di Gibilterra l'un lito e l'altro vidi infine la Spagna fin nel Morocco l'isola di Sardi e l'altra che quel mare intorno bagna lui e i compagni eravano vecchi e tardi erano vecchi era il secondo viaggio dopo quello narrato nell'Odissea quando venimo a quella foce stretta o stretto di Gibilterra dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta l'uomo non si può mettere oltre le colonne d'Ercole i limiti della conoscenza i limiti della vita imposti da Dio dall'autorità suprema è questo il senso per i medievali o frati ecco il discorso di Ulisse ai suoi compagni dissi è Ulisse che parla che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente già qui tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente vabbè questa è la bellezza della poesia di Dante quindi non vogliate negare i nostri sensi per quel poco che ci resta da vivere perché dopo tutta l'odissea dopo i vent'anni di guerra e di viaggio Ulisse è voluto ripartire i suoi compagni vecchi e tardi lo hanno accompagnato per quel poco che ci resta da vivere non vogliate negarvi questa esperienza di retro al sol quindi del mondo dietro le quinte diciamo così oltre le colonne vercole del mondo senza gente e qui ovviamente arriva il passo celebre considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza quindi non è un peccato è seguire la vostra dignità di esseri umani nelle parole di Ulisse per seguire la virtù e la conoscenza però le parole di questo Ulisse sono parole dell'Ulisse dantesco quindi è l'ossessione dei medievali del peccato di cui ci parla le Goff vedete tutto insieme nella commedia di Dante in cui appare Ulisse l'ossessione dell'autorità c'è Virgilio ci sono gli antichi ci sono le fonti c'è Ulisse stesso c'è il peccato anche l'inferno stesso era un'ossessione la paura di un'eternità di dolore l'inferno proprio dove troviamo Ulisse del resto anche la topografia della commedia i luoghi della commedia le tre cantiche cioè i tre i tre topoi i tre luoghi Purgatorio Paradiso Inferno già quella stessa è una gerarchia come diceva Luca tutti ce lo ricordiamo dalla formazione scolastica tutti dalla formazione scolastica si ricordano di aver fatto almeno una volta uno schema di come si va dal basso verso l'alto dal sotterraneo inferno attraverso la montagna del purgatorio la montagna dell'inferno insomma la montagna del purgatorio e poi si sale verso il paradiso quindi quella topografia è di fatto una gerarchia ancora l'ossessione della gerarchia quindi nel percorso attraverso questi tre luoghi della commedia dantesca abbiamo che fare con tante delle altre ossessioni di cui parla Jacques Le Goff per quanto riguarda la mentalità medievale l'ossessione dell'invisibile del sovrannaturale del magico del mistico tutte cose che poi nella mentalità moderna sono scomparse sono state ribaltate adesso capirete tra un attimo dove voglio arrivare con questo discorso tutto questo aveva cioè il soprannaturale l'invisibile un valore simbolico doveva essere interpretato sempre e solo in relazione al paradigma teologico religioso divino per cui anche i sogni non erano fenomeni interiori manifestazioni dell'inconsuo ma erano visioni mistiche chiaramente erano manifestazioni dell'esteriorità verso l'interiorità quindi dell'esterno verso l'io del sovrannaturale sull'io sul naturale diciamo così anche i miracoli non erano semplicemente eventi contingenti interpretati in un certo modo ma erano fenomeni mistico divini quindi diciamo che spesso tutto ciò che era una percezione personale ci dirà la nostra mentalità moderna non ultima la psicoanalisi ha avuto un ruolo fondamentale in questo chiaramente cose che per noi oggi sembrano ovvie ma prima di Freud non lo erano questo è il discorso per questo stiamo parlando dei cento anni che sono trascorsi dall'Ulisse di Joyce perché cento anni fa quando Freud aveva appena iniziato a pubblicare tutte le sue opere i suoi scritti tutte queste cose che per noi oggi sono ovvie e meno male all'epoca non lo erano quindi non solo nel medioevo ma anche tanto tempo dopo vedete sempre il rapporto fondamentale tra diversi momenti storici il raffronto quindi diciamo tutto questo per dire due cose fondamentali che la presenza di Ulisse nella commedia dantesca ci racconta di tutto questo ci racconta dell'essere umano medievale delle sue ossessioni della sua mentalità del suo modo di pensare il mondo ma ci racconta anche lo stavo infatti iniziando a introdurre dei passaggi successivi ora sarà troppo facile in poche parole riassumere secoli di storia perché sto appunto arrivando al novecento dopo avervi annoiato con cose precedenti al novecento però dobbiamo essere un po' così schematici mi perdonerete quindi stavamo dicendo tutto ciò che a volte erano percezioni della persona cose quindi interiori fenomeni interni vengono dalla mentalità medievale interpretati come vengono proiettati all'esterno diciamo così vengono pensati come fenomeni esteriori che quindi hanno a che fare con il divino con il sovrannaturale eccetera allora Feuerbachianamente potremmo dire la svolta della mentalità moderna è riappropriarsi di questa esteriorità ho citato Feuerbach perché fu uno dei primi della sinistra hegeliana filosofo dell'ottocento a dire attenzione Dio è una proiezione dell'io ancora prima della psicoanalisi allora il passaggio chiave che ci porta a Joyce è questo prima parlavamo di allargare il campo è questo restringimento del campo ritorniamo su di noi un rimpicciolimento diciamo così dell'inquadratura ci raccogliamo per così dire iniziamo a guardarci dentro e questo è il passaggio tra le due epoche no? tra le due mentalità sempre le Goff in quel libro molto bello che tra l'altro è un libretto non eccolo no comunque è non ricordo il titolo per questo lo cercavo è un libretto sulla storia del medioevo sintetizzata lo potete trovare facilmente in poche pagine ma non è tanto un racconto di eventi storici quanto parallelamente come stavamo provando a fare un raffronto anche con interpretazioni concettuali di quel tipo di mentalità sempre Jacques Le Goff dice dice a questo proposito questo passaggio di mentalità le confessioni del prete diventano le confessioni dall'analista ci si sposta per così dire come Feuerbach diceva da Dio all'Io Le Goff sembra dirci Le Goff è uno storico non è un filosofo non è uno scrittore è uno storico allo stesso modo lui allora sembra dirci ci si sposta dalla sagrestia a lettino ci si sposta da una ricerca verso il fuori a una ricerca verso il dentro da una passione per l'esterno per l'esteriorità a una passione per l'interno per l'intimo no? per l'interiorità questa è quella che viene chiamata a livello concettuale la secolarizzazione e che ad un livello più complesso chiameremmo kenosis svuotamento perdonatemi come tutti anche io sono a casa evidentemente qualcuno doveva entrare allora dicevo kenosis svuotamento la secolarizzazione la laicizzazione della nostra mentalità si può parlare in filosofia di svolta kenotica uno svuotamento perché la densità di questi significati teologici e non solo anche mistici viene svuotata e riempita poi nuovamente di significati umani perdonatemi un attimo arrivo subito ovviamente non era previsto perché dovevo fare una conferenza però è il bello della diretta dunque dicevamo i passaggi sono quindi questi è qui che arriviamo all'ulisse di joyce che esiste in quel modo perché esiste tutto questo tutta questa trasformazione storica che stiamo provando a ricordare che è una trasformazione di mentalità di nostro relazionarci al mondo diciamo così dicevo per allora riassumere un attimo tutto questo passaggio dall'antichità in cui centrale è il mondo la natura perché deve essere conosciuto deve essere esplorato come accade nell'odissea si deve viaggiare per conoscere il mondo per esplorarlo cosmocentrismo potremmo dire il mondo è al centro da questa visione delle cose nell'antichità ci si sposta ad una visione dove è predominante come stavamo dicendo il teocentrismo la commedia di dante uomo del medievo ci parla di questo è un'esplorazione sì è un viaggio ma è un'esplorazione dei non luoghi della religione diciamo così quindi non è più centrale il mondo perché è stato già conosciuto ma diventa centrale Dio e allora il passaggio che stavamo affrontando verso la modernità quindi non stiamo parlando di singole epoche storiche analizzare ricordare la storia la storiografia secolo dopo secolo stiamo parlando di stiamo provando a fare una grande sintesi vedere come si è evoluto almeno nei 2500 anni di storia culturale europea il nostro modo di pensare e l'avventura di Ulisse ci aiuta in tutto questo allora dicevo il passaggio successivo è quello che dal medievo ci porta finalmente ecco alla modernità laddove mi perdonerete per la banalità dal cosmocentrismo antico al teocentrismo medievale si giunge finalmente all'antropocentrismo della modernità l'essere umano è al centro abbiamo parlato di svolta che è notica abbiamo parlato di secolarizzazione allora in questo modo penso che si capisce meglio perché nell'Ulisse di Joyce non si narrano le gesta di un eroe un eroe leggendario un eroe mitico che compie peripezie fantasmagoriche ma si narrano le vicende quotidiane e semplici di un uomo normale che ha a che fare con gli eventi della sua giornata normale dal mattino alla sera in una città normale un giorno normale della sua vita normale è uno svuotamento è una semplificazione potremmo dire ci si concentra finalmente sulla bellezza del quotidiano anche questo è l'Ulisse di Joyce è la sintesi di tutto questo processo storico culturale allora arrivando a Joyce noi arriviamo al novecento vi dicevo che il novecento contiene anche diverse altre incarnazioni di Ulisse vi ho citato alcuni poeti c'è un passo che spiega bene questi concetti che stiamo trattando adesso dell'ultimo viaggio di Pascoli 1904 dai poemi conviviali in cui dicevamo anche qui si narra di un nuovo viaggio di Ulisse vi leggo il passo della conclusione dove si parla tra l'altro anche in questi versi di Calizzo ed ecco usciva con la spola in mano d'oro e guardò giaceva in terra fuori del mare al pie della spelonca un uomo sommosso ancora dall'ultima onda e il bianco capo bianco perché è anziano il bianco capo accennava di saper quell'antro tremando un poco e sopra l'uomo un tralcio pendea con lunghi grappoli dell'uve era Odisseo lo riportava il mare alla sua dea è tornato da Calizzo lo riportava morto alla nasconditrice solitaria all'isola deserta che frondeggia nell'ombelico dell'eterno mare nudo tornava chi rigò di pianto le vesti eterne che la dea gli dava bianco e tremante nella morte ancora chi l'immortale gioventù non volle ed ella avvolse l'uomo nella nube dei suoi capelli ed ululò sul flutto sterile dove non l'udì a nessuno non essermai non essermai più nulla ma meno morte che non esser più allora qui Pascoli ci racconta la morte di Ulisse in questi versi conclusivi meravigliosi ci pone questa domanda che è una domanda esistenziale una domanda dell'uomo moderno che però viene a noi proposta da Pascoli parlando di di Ulisse ancora di Ulisse meglio non essermai o meglio non esser più meglio non essere mai nati non aver fatto esperienza della vita non essere mai venuti al mondo o meglio accontentarsi pur vivendo avendo vissuto di dover morire di dover a un certo punto non essere più quindi qui chiaramente come vedete ci spostiamo su un altro fronte tutto il discorso che stiamo facendo della introspezione c'è un accartocciarsi della sensibilità dell'io su se stesso un ripiegamento non si pensa più all'esplorazione avventurosa del mondo al compiere gesta eroiche imprese leggendarie lottare con i mostri sfidare gli dèi incontrare creature magiche ma qui stiamo parlando di noi stiamo parlando del nostro io e della nostra vita questa è l'operazione di Joyce questo è il senso di ciò che fa Joyce e dei cento anni che sono passati dall'Ulisse di Joyce tra l'altro il legame diciamo così tra letteratura e psicoanalisi nell'Ulisse di Joyce è noto quando l'Ulisse di Joyce esce nel 1922 tra l'altro ci sono tanti dettagli che sicuramente insomma sono noti ma sono interessanti perché fanno parte un po' anche della leggenda della del mito stesso nato attorno a quest'opera no? L'Ulisse di Joyce fu pubblicato il 2-2 del 22 il 2 febbraio 1922 che era praticamente il giorno del quarantesimo compleanno di Joyce fu scelto apposta dall'autore era nato nel 1882 quindi una certa attenzione ai dettagli anche da parte dell'autore sono comunque insomma aneddoti curiosità interessanti la famosa giornata dicevamo in cui si narra della delle vicende delle azioni del protagonista Leopold Bloom è il 16 giugno giorno in cui James Joyce incontrò Nora la donna che poi diventerà sua moglie quindi diciamo sono curiosità interessanti perché ci parlano anche di che tipo di persona fosse Joyce dicevamo esce nel 22 quindi la letteratura psicoanalitica già esiste da qualche tempo da qualche decennio l'interpretazione dei sogni di Freud lo sappiamo è uscita nel 1899 è già qualche decennio quindi che in Europa in quel fervore culturale dei primi del novecento la psicoanalisi negli ambienti culturali inizia a circolare anche in Italia lo sappiamo quindi tra Vienna e il nord Italia Trieste Svevo insomma siamo in quel contesto lì e allora ecco questo è il motivo per cui quindi prima abbiamo fatto un ragionamento abbastanza ampio quindi siamo arrivati a una certa altezza potremmo dire ora dicevo la stessa cosa però da un punto di vista più storico il fatto che la psicoanalisi inizia a diffondersi proprio in quel periodo è di grande influenza per quest'autore che si ritrova a scrivere quest'opera e la scrive proprio in questo modo subendo quindi queste suggestioni questi influssi e allora il discorso sulla sull'influenza della psicoanalisi riguarda il fatto che allora come abbiamo già provato a dire l'odissea come avventura geografica diventa una sorta di epopea dello spirito diventa una sorta di avventura interiore in questo per esempio è straordinario anche la leggo perché è breve non manca molto alla conclusione non voglio dilungarmi troppo quindi diciamo un po' le ultime cose tiriamo un po' le fila di tutto il nostro discorso e poi ci avviamo alla conclusione dicevo sempre con riferimento alle trasfigurazioni di Ulisse sia nella narrativa che nella poesia del novecento sempre con riferimento all'influenza della psicoanalisi e quindi a questa modalità di introspezione di analisi interiore è spettacolare anche la lirica intitolata Ulisse di Umberto Saba del 1945 quindi ancora posteriore in cui come vi dicevo già all'inizio il mezzo poetico forse in maniera ancora più diretta ci riesce a illuminare su questa potenza della figura di Ulisse di parlare di noi di parlare ad ognuno di noi di se stesso nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste d'Almate i solotti a fiordonda emergevano overaro un uccello sostava in tento a prede coperti dalghe scivolosi al sole belli come smeraldi quando l'alta Maria e la notte li annullava vele sotto vento sbandavano più a largo per fuggirne l'insidia oggi il mio regno è quella terra di nessuno il porto accende ad altri i suoi lumi me a largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore questo è l'Ulisse di Saba quindi stiamo parlando di qualcosa che con l'Odissea quasi sembra sorprendentemente non aver nulla a che fare a proposito di questa operazione di abbiamo detto introspezione di interiorizzazione di indagine intima sui contenuti umani e quindi tornando un attimo a Joyce mi interessa notare come sostanzialmente secondo una celebre interpretazione tra l'altro ecco parentesi ci fermeremo qui su Joyce non riusciamo ad andare oltre nel senso che come accennava anche Luca nell'introduzione un altro bellissimo ve lo accenno però e poi concludiamo su Joyce un altro bellissimo rifacimento un'altra bellissima prosecuzione delle avventure di Ulisse è il poema intitolato Odissea del 1938 quindi di una quindicina d'anni successiva all'Ulisse di Joyce del poeta greco Nikos Kazantakis un poema in 24 canti proprio come erano i poemi omerici lunghissimo di 33.333 versi anche qui piccola curiosità che pure qualcosa sull'autore ci dice molto più lungo vi dico anche la lunghezza per capire che era di circa forse di più di più di 5.000 versi più lungo dei due poemi omerici messi insieme quindi un'operazione anche quasi a parte complessissima ma anche quasi dissacratoria quindi superare la lunghezza dei due poemi omerici messi insieme in un'unica opera che narra cosa anche qui come Dante come Pascoli eccetera la prosecuzione dell'avventura di Ulisse quando venne pubblicata l'Odissea di Kazantakis e per il titolo che era quello pari pari e per il fatto che non fosse una trasfigurazione come l'Ulisse di Joyce l'opera venne criticata durissimamente perché è un poema bellissimo tra l'altro venne criticata perché sembrava quasi estremo nella sua irriverenza diciamo così cioè intitolare un'opera come l'originale come l'originale Odissea tra l'altro tutti venivano dall'esperienza che si stava facendo proprio in quegli anni dell'Ulisse di Joyce ma non parlare di quel personaggio in modo trasfigurato abbiamo detto noi come fa Ulisse come fa Joyce nel suo Ulisse ma parlarne in maniera concreto realistica potremmo dire quindi nello stesso stile di Omero un poema in versi che narra davvero di Ulisse che dopo essere tornato a Itaca riparte e compie infinite altre imprese non c'è tempo di approfondire questo ma anche questa è una bellissima trasfigurazione rivisitazione reincarnazione o semplicemente continuazione prosecuzione delle avventure omeriche 2500 anni dopo perché ripeto è tra i più recenti sì la poesia di Saba del 45 ma è solo una brevissima poesia quindi questo qui è del 38 e sicuramente tra le opere note che riprendono Ulisse più recenti dicevo andiamo a concludere su Joyce diciamo qualcosa di veloce sullo stile per capire come anche lo stile che poi sappiamo tutti essere la cosa più particolare caratteristica di quest'opera e da lì deriva anche la difficoltà di lettura di comprensione quindi non possiamo non dire qualcosa su questo perché è una diretta conseguenza di tutto il discorso che stavamo facendo prima a un livello più ampio per esempio nella celebre dicevo interpretazione dell'Ulisse di Joyce di Lacan quindi filosofo psicoanalista psichiatra post freudiano che riprende la psicoanalisi freudiana ampliandola in questa interpretazione dell'Ulisse di Joyce Lacan dice che la scrittura per Joyce è uno sgabello una possibilità di elevarsi una possibilità anche di salvarsi dalla sua interiorità secondo Lacan problematica quindi la scrittura come antidoto diciamo così alla psicopatologia alla malattia ci sono molti autori psichiatri psicoanalisti che sono anche studiosi accademici ricercatori che riflettono su come la creatività l'opera d'arte l'arte in sé possa essere una trasformazione di una condizione interiore problematica che può portare alla stabilizzazione dell'io quindi ad una stabilità ad un equilibrio può portare quindi ad una salvezza tra virgolette è il vecchio processo che Freud chiamava semplicemente sublimazione sublimare le spinte istintuali in contenuti più concettuali diciamo così quelle sovrastrutture culturali nostre umane di cui parlavamo prima se questo è un discorso della filosofia dell'arte della psicologia dell'arte noto il fatto che non la quazia la follia ma una leggera nevrosi una situazione anche semplicemente problematica di tipo personale esistenziale può essere sanificata attraverso la dedizione all'arte Lacan con Joyce fa invece un passaggio ulteriore cioè dice lui non è semplicemente un nevrotico ma è uno psicotico e però nessuno se ne è mai accorto quindi questa è la sua interpretazione originale sulla base di studi anche biografici sulla base di ricerche storiche non semplicemente non se l'è semplicemente inventato insomma è una interpretazione ma si basa su fonti storiche quindi secondo Lacan Joyce non era semplicemente una persona inquieta o tormentata o nevrotica ma era davvero uno psicotico e però non è mai impazzito perché attraverso la scrittura è riuscito a tenere integra la sua personalità e quindi sgabello perché è la sua possibilità di elevarsi diventando celebre e immortale nella storia della letteratura e della cultura ma anche di salvarsi perché viene notato da questo tipo di interpretazione psicoanalitica non è che parlavamo di instabilità o di nevrosi che conducono all'arte non è che quando si è folli o pazzi non si riesce a fare arte pensiamo a tantissimi infiniti casi esempi che trattiamo poi anche a lezione qui in Unitre Van Gogh ci sono gli artisti folli davvero nel senso della psicosi però quando diventano folli lo diventano definitivamente raramente si riescono poi a salvare o riescono a guarire così come tanti esempi di casi clinici riportati dalla psicopatologia dalla storia dalla storia della psichiatria ci raccontano ma anche dall'attualità insomma dalla cronaca medica ci raccontano di tantissimi pazienti psicotici che però sono artisti pensiamo all'art blue pensiamo a tanti movimenti che sono nati a partire da collezioni di opere d'arte dipinti sculture fatti da pazienti di manicomi all'epoca quando esistevano e comunque di luoghi di cura quindi non è che un folle non può essere artista però lo è inconsapevolmente lo è senza riuscire a salvarsi diciamo così molte volte per esempio lo fa Hans Prinzorn che fu uno dei primi a studiare questo legame tra psicopatologia è arte molte volte la schizofrenia produce arte lo schizofrenico produce arte perché quel suo produrre arte è la ricreazione di un mondo che è il suo mondo interiore e che non corrisponde al mondo reale in cui vive lo schizofrenico non riesce a istituire un rapporto sano ed equilibrato e realistico col mondo reale che lo circonda si diffugge in un suo mondo interiore e quando lo schizofrenico riesce a diventare artista a produrre cioè opere d'arte di grande qualità di grande bellezza e perché riesce a trasferire il suo mondo interiore che non coincide col mondo reale in un mondo nuovo finto che è l'opera d'arte però perde il contatto con la realtà e questo è il discorso la normalità dei rapporti studiati dalla medicina ma anche dalla cultura in generale la normalità dei rapporti tra psicopatologia e arte è questa il fatto che si può produrre arte ma non mantenendo la sanità diciamo così allora l'analisi di Lacan su Joyce è straordinaria perché ci racconta di Joyce come psicotico ma come artista che riesce a mantenersi integro e a salvarsi grazie alla scrittura ed è per questo secondo Lacan che la scrittura di Joyce è così complessa che l'Ulisse è così come tutti lo conosciamo quindi ho fatto tutta questa divagazione per parlare davvero per trovare una motivazione allo stile di Joyce nell'Ulisse che come sappiamo non è lo stile di tutte le opere di Joyce è lo stile dell'Ulisse quindi questa scrittura magmatica questa scrittura confusa questa scrittura straordinariamente caleidoscopica e perciò che noi parlavamo del fatto che doveva essere il lettore ad avere ad avere un ruolo attivo e creativo nella lettura dell'opera perché ci sono molti episodi che devono essere veramente interpretati e reinterpretati durante la stessa lettura per la loro difficoltà proprio nel modo in cui vengono narrati nel modo in cui si presentano al lettore quindi questa particolarità stilistica questo modo di condurre il gioco diciamo così questo modo di raccontare che è il suo modo di scrivere di Joyce secondo Lacan è dovuto a questo a questa motivazione di cui abbiamo parlato e come lo spiega siamo davvero alla conclusione come lo spiega lo spiega dicendo che la sua quindi diciamo Lacan nell'analizzare nell'analizzare l'Ulisse di Joyce fa una sorta di interpretazione fa una specie di filosofia e psicoanalisi dell'arte fa una specie di interpretazione psicologico-filosofica di quest'opera d'arte e dice che per darne una definizione Lacan lo definisce lo dice così questa polverizzazione della scrittura questo essere della scrittura dell'Ulisse di Joyce così caleidoscopica così magmatica il flusso di coscienza così caotica così apparentemente caotica è perché lui mescola tre registri nel pensiero di Lacan lo riassumiamo davvero in poche parole esistono tre possibilità della nostra mente di configurarsi il reale che non è il mondo reale ma il reale nostro interno l'intimità le esperienze dell'inconscio il simbolico che è il reale la nostra realtà Lacan chiama simbolico tutto ciò che ci circonda cioè il nostro riuscire a simbolizzare le nostre esperienze attraverso la cultura attraverso le nostre sovrastrutture culturali e l'immaginario che è la nostra capacità appunto mitopoietica cioè la nostra fantasia questi tre registri in cui secondo Lacan di cui secondo Lacan ognuno di noi è fatto e che ognuno di noi tiene separati per poter vivere normalmente nell'Ulisse Joyce li mette insieme in che senso secondo Lacan ognuno di noi li tiene separati perché quando noi facciamo esperienze del reale della nostra intimità del nostro dolore lo sappiamo soltanto noi cosa ci succede dentro quando noi facciamo esperienze dell'immaginario anche qui è un mondo separato dall'altro è il mondo della fantasia è il mondo della creazione della creatività quando noi facciamo esperienze nel simbolico cioè le esperienze con gli altri nel mondo normale le esperienze culturali che sono esperienze simboliche anche quello è un mondo separato degli altri due quindi nell'esperienza di ciascuno di noi secondo la teoria di Lacan questi tre registri sono separati avvengono separatamente non possono essere simultanei non possono essere compresenti nella scrittura di Joyce in quell'opera d'arte che è l'Ulisse di Joyce questi tre registri sono compresenti perché è come se il reale dell'autore il suo dolore la sua intimità viene messa su carta e nell'essere messa su carta si mescola all'immaginario alla fantasia al racconto al mito e nel far questo però si traduce sempre in un registro anche simbolico cioè di comunicazione con gli altri e questo ovviamente riguarda anche quello che dicevamo prima il fatto che ci sono vicende reali il doppio registro no? le vicende reali di Leopold Bloom del suo 16 giugno e il riferimento al mito che è il sottotesto con cui noi lo leggiamo anche lì è una mescolanza di simbolico e immaginario quindi l'essere riuscito a mettere insieme questi tre registri della nostra esperienza in un'unica opera è secondo Lacan la grandezza di Joyce e del suo Ulisse bene quindi tutto quello che io ho provato a fare oggi è rendere conto non solo delle trasformazioni di Ulisse nel corso della storia letteraria ma anche provare a offrire un punto di vista di vista meta letterario diciamo così siamo andati ben oltre la letteratura abbiamo provato a capire l'Ulisse come abbiamo provato a pensare Ulisse come metafora come simbolo no? abbiamo detto la guerra come polemus come conflittualità innata dell'umano il viaggio come ricerca la ricerca come desiderio e quindi l'eros come forza propulsiva dell'umano quindi Ulisse come simbolo Ulisse come metafora dell'io Ulisse attraversando queste diverse fasi abbiamo visto l'esplorazione del mondo l'esplorazione di Dio l'esplorazione dell'io Ulisse che si presenta come una sintesi di tutte queste varie fasi nel senso che a seconda dell'epoca della cultura in cui ritorna il personaggio di Ulisse prende le caratteristiche di quell'epoca di quel contesto storico culturale cioè serve ad esprimere l'essere umano di quel tempo era qui che io vi volevo portare perché di fatto tutti i nostri esempi ci hanno comunicato questo allora se nelle sue varie reincarnazioni nel corso della storia Ulisse esprime di volta in volta la mentalità e il contesto storico culturale dell'autore dell'epoca in cui è presente vuol dire che Ulisse stesso è simbolo e metafora dell'io è metafora dell'esistenza umana concludo dicendo che allora forse per questo che a Itaca diciamo così nelle successive riletture Ulisse non trova nulla e riparte in realtà potremmo dire che non è una disillusione non è una delusione tra l'altro nella bellissima Itaca di Lucio Dalla c'è quel passo alla conclusione alla fine prima del ritornello ma in realtà è la fine del re proprio del testo dove dice se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo quindi tutti vogliono che Ulisse riparte ma non è che noi siamo delusi dal fatto che non trova nulla siamo delusi perché Itaca è la fine del viaggio è la morte è la fine di tutto è la conclusione definitiva è una cosa bella perché è simbolo diciamo così della vita compiuta ma è anche simbolo della fine in sé quindi è simbolo del raggiungimento certo ma posticipato nel tempo di ognuno di noi di una meta conclusiva che nessuno vorrebbe mai raggiungere sostanzialmente e quindi importante non è Itaca come poi sostanzialmente dice Cavafis nella sua straordinaria lirica importante non è Itica Itaca in sé come ritorno ma come dono cioè tutto ciò che è venuto prima non il ritorno a Itaca il raggiungimento della Petrosa a Itaca anche a Zacinto di Foscolo è un rifacimento meraviglioso a partire dal mito di Ulisse non è Itaca importante ma è tutto quello che ci ha dato come dice Cavafis tutto ciò che si è vissuto incontrato amato prima durante il viaggio e ditemi voi cos'è questa se non allora un'odissea dello spirito allora io concludo leggendovi allora l'Itaca di Cavafis del 1911 quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga fertile in avventure e in esperienze i lestrigoni i ciclopi o la furia di Nettuno non temere non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo in ciclopi e lestrigoni no certo né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro se l'anima non te li mette contro devi augurarti che la strada sia lunga che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti finalmente con che gioia toccherai terra tu per la prima volta negli empori fenici indugia e acquista madreperle coralli ebano e ambre tutta merce fina anche profumi penetranti di ogni sorta più profumi inebrianti che puoi vai in molte città egizie impara una quantità di cose dai dotti sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante soprattutto non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca Itaca ti ha dato il bel viaggio senza di lei mai ti saresti messo in viaggio che cos'altro ti aspetti e se la trovi povera non per questo Itaca ti avrà deluso fatto ormai savio con tutta la tua esperienza addosso già tu avrai capito ciò che Itaca vuol significare grazie a tutti e grazie per la vostra pazienza grazie